carissime e carissimi trovo doveroso caricare un video della situazione attuale in canada queste che vedete sono alcune immagini live di oggi ad octava trovate il link nella descrizione del video per collegarvi sperando che sia ancora online e adesso ci spostiamo a sartina sul confine del canada con gli stati uniti si tratta della seconda via di accesso più frequentata fra le due nazioni come potete vedere le autostrade sono vuote non voglio commentare oltre lascio i video con i commenti originali questo è solo per testimoniare di una situazione quella di oggi 7 febbraio 2022 di cui pochissimi network stanno parlando grazie ai camionisti del canada questo è il 402 highway leading to the blue water bridge che è l'accesso punto, il secondo più busiesto internazionale crossi tra canada e le u.s. e è stata chiamata e se rilassero passando la posizione se si parla questa la posizione e vedete le coppie che ci sono stati hanno l'exit rompato quindi pochissimi da chi non può andare in questo l'accesso il città 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 Grazie.